Ciao, sono Paolo Bacci e vi presento questo bellissimo Van Maliboo 600 Charming, un camper veramente bellissimo. Se volete vedere le caratteristiche e le optional, cliccate sulla vostra destra in alto e si aprirà la scheda del nostro sito. Poi iscrivetevi al nostro canale YouTube e cliccate la campanellina per essere sempre aggiornati su tutti i nostri video. I miei di abitabilità dei campe, quelli di Nicoletta del market e quelli di Andrea della tecnica. Andiamo al suo interno. Le cose da scoprire nel Maliboo sono veramente tante, quindi io vi do un po' un'idea, ma poi vi consiglio di venirli a vedere. Questo bel pianetto che è un piano d'appoggio che con un semplice schiacciando, guardate questa facilità di buttar giù, questo altro contenitore tutto bello sagomato, che sfrutta proprio il massimo della pedata, quest'altro contenitore sotto la seduta della terza e quarta persona. Questo camper è un camper da quattro omologato in viaggio, ma da tre diciamo abitabili, in quanto sono due alla parte posteriore e eventualmente un terzo posto qua. Poi se ci sono due bambini piccoli ci stanno. Il tavolo è un tavolo che lo vedete ci si sta bene, la seduta per quattro è comoda, i piatti per quattro sono un po' meno, ma fare una chiacchiera con in quattro persone con un bicchier di vino e un aperitivo e qualche cosa da mangiare è veramente accogliente. Campe come vedete è molto luminoso, c'ha una bella oblò davanti, un oblò sopra e la finestra, ha tutte queste attenzioni e finiture, guardate come è sfruttato qua, c'è tutta la luce led che gira tutto d'intorno e qui i vari pensili, guardate con che cura di finitura ha questo Malibu. Questo è il televisore, ma è finto, vi occorre quello nuovo. Qua il due fuochi, il lavello e quindi anche questo può diventare un piano di appoggio, vedete questo il blocco perché c'ha delle guarnizioncine che lo bloccano e non permettano che vibri. Guardate le cassettiere con queste belle chiusure, una, due e tre. un grandissimo contenitore. Poi un altro sopra il pensile, sopra la cucina, questo bellissimo come finitura, guardate altro contenitore cucina, qui un bel piano di appoggio con il suo frigo e congelatore. Poi il pensile, fate le finiture di questo oggetto, eccolo qua, qui grandi contenitori che vengono bene, è possibile bene metri che tanto non cadano, altra pensile, le due finestre aprivili e l'oblò. Poi come vedete vado a letto e ci si sta veramente bene, tutto il panno sia sul lato che sul tetto perché isola e insonorizza dai rumori e poi è molto pratico. poi al, qua ci sono un contenitore sfruttato al massimo, sia l'armadio con l'accesso anche dal garage, sia quest'altro contenitore che è un altro piccolo armadio sul lato, oltre a quest'altro che è un altro bel contenitore. Tutta questa struttura può essere tolta e quindi avere un grande vano di stivaggio nella parte centrale del van. Questa è la parte posteriore e potete vedere le misure di questo spazio qui sotto, misure che con questo piano è asportabile, quindi o si mette e crea due volumi o si leva e ne crea uno solo. Qua c'è il contenitore porta bombole, delle belle bombole di gas con grande capacità. La porta del bagno, questa porta del bagno non vi immaginate, guardate con che finitura, con un semplice movimento, scorre e guardate, io sono un po' cicciotto ma veramente centro, velocissimo. Poi il lavandino, eccomi qua che mi lavo, qui il contenitore sotto il lavandino. Poi particolarità del bucci del cartago che qui scorre e quindi questa è la seduta, ha il suo oblo, poi quando occorre far la doccia, questa struttura va all'interno, questo si copre e chiudendo diventa un bello spazio doccia. Immaginatevi, ecco qui la doccia, mi muovo, guardate come mi muovo bene, veramente comodo. Quindi come avete potuto vedere questo è un camper bellissimo, però l'importante è venirlo a vedere per comprenderlo in tutte le sue parti e poi sicuramente vi darà l'emozione di poter immaginarvi per le strade di Europa perché è un camper funzionale, bello e comodo, ma come sempre ad ottimi prezzi e servizi caravambacci. Ciao!